Erano grossomodo le 5.30 del mattino quando è avvenuto il fatto. La vittima e il suo feritore sembra avessero avuto una discussione all'interno del locale, continuata poi all'esterno della discoteca a chiusura della serata. È stato proprio in questo punto, ad una ventina di metri dall'uscita principale del locale, in via Generale Clark a Salerno, che il 21enne salernitano è stato ferito con una coltellata al torace. Sul posto immediato l'arrivo dei mezzi di soccorso, due ambulanze della Croce Bianca e dell'Humanitas, che hanno trasportato il giovane al vicino ospedale di Salerno. Disposto l'immediato trasferimento in sala operatoria per il ragazzo. Per lui, per fortuna, solo una ferita al torace, non penetrante, un taglio superficiale che è stato medicato e suturato. Buone le sue condizioni, è perfettamente cosciente e per precauzione è stato ricoverato nel reparto di chirurgia. Sull'altro fronte, quello delle indagini, gli uomini delle volanti della Polizia di Stato hanno fermato alcuni testimoni dell'accaduto che sono stati sentiti presso gli uffici della Questura. Intervenuta sul posto anche la scientifica a supportare la squadra mobile per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'accoltellamento non ci sono telecamere di sorveglianza, ma quasi sicuramente le persone coinvolte nel fatto di sangue sono state riprese dalle telecamere interne della discoteca. Non dovrebbe essere quindi difficile risalire a chi ha inferto il fendente, anche nel caso in cui i testimoni non riescono a rifinire elementi utili. L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni personali.